Qui passiamo a vedere il pittore che ha dipinto la sala, la sala, ed è un bergher, come potete vedere, andiamo avanti. Poi qua abbiamo, non lo so chi, comunque la storia si tocca con le mani. Queste sono le varie stanze, vedete, bella stanzetta, 921, qua c'erano tutti i nobili con le sedi un pochettino scomode, belle, dure, senza imbottitura, però stavano la stessa a volersi la loro posizione sociale. E' la storia che si conta, si tocca. Queste stanze, sempre le specchiere, le specchiere con le panche, tutte interseate. Grazie a tutti.